Lasciati questi pochi secondi, girati pure verso di loro che tanto noi ci conosciamo, quindi non ti preoccupare se vati senza guardarmi in faccia, che tanto so... Sì, certo Rita, grazie al pubblico che avete dato questo omaggio a Rita. Allora Rita, il fatto di metterti qua è veramente molto bello, perché avere comunque una persona che non ha vent'anni, che però ancora oggi ci crede, vuole mettersi a confronto con altre persone che sono sempre in questo mondo della musica più giovani, eppure non ha paura. Lei va avanti, fa quello che deve fare perché ci crede. E questo deve essere soprattutto un insegnamento reale e veritiero per tutti i cantanti giovani che ci sono qui e per i bimbi che fanno la scuola di canto. Lei è l'esempio da seguire, vedete? Io voglio che tutte le manzioni, che potrebbero dare tutti voi. Rita, con lei credo qualche minuto in più. Se vuoi dire quello che hai vinto ad Arcore, sei libera di farlo, perché questo è il tuo parco ed è giusto e se vuoi dirlo, loro lo sappiano. Ho vinto il Giovannino Toro a Bimercati, io abito a Bimercati, esattamente due mesi fa. E poi sono stata a Bimercati, a Bergamo, a Triviolo, e sono arrivata terza nella trasmissione, che c'è tutta la trasmissione. Vai, 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 canta adesso. Speriamo che sia anche qua, tanto, perché sono molto emozionata, perché io do tante emozioni e tante volte le emozioni mi blocco un attimino, anche perché le emozioni ci vuole. non voglio trasmettere tutti voi. Speriamo di trasmettere. Abbiamo detto Rita, ci vediamo alla una e mezza, che inizia il check. Stannotta alle tre e quattro mi ha chiamato suo marito e mi ha detto, siamo già lì, dove dovevo andare. Rita, sono le tre di notte. Allora, Rita, cosa ci canti? L'hai già detto, ma dillo. Non credere di Mina. Buona parola. Rita, in bocca al lupo, però... Pumavitora non riesce a prendermi, perciò voglio darti davanti a tutti il bacio. In bocca al lupo, Rita. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Vai, vai, vai. Un applauso, Rita. Stai indietro. No, 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 no,enson quell rai. No, no. e sentare neventù e non solo un momento quel che esiste per noi no, 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 ascoltami tu per lei sei un giocattolo il capriccio di un attimo e per me sai la vita sei lei chiamasse io 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 ma non ti amo 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 non ci dare neventù e non sarà un momento quel che esiste fra noi se lei ti amasse io se lei ti amasse io se lei soffrirà ed anche un po' di me pensando a te ma non ti ama no, no lei non ti ama no, no e io non voglio vederti morire morire per lei ma non ti ama no, no lei non ti ama no, no e io non voglio vederti morire morire per lei no, no brava brava brav brav grazie 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 bravo grazie 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 bravo grazie a la standing convention per Maria Vittaletti grazie guarda hai visto che effetto è causato? quando canto io l'effetto è che si alzano però se ne vanno poi ti ringrazio Guida ti ringrazio tu me li fai sempre complimenti Guida l'abbiamo conosciuta qualche mese fa che ha partecipato a un concorso e oltre ad essere una bravissima cantante è anche una donna veramente splendida in sé in tutto e questo è vero l'abbiamo sempre detto e anche il tuo marito è una persona bellissima quindi grazie per essere venuti e grazie per quello che trasmetti brava Maria Vittaletti brava grazie bravissima voglio vedere se quando canto io vi alzate in piedi così voglio proprio vedere ok andiamo avanti va la prossima concorrente una canzone che ha vinto no che è andata a questa bambina ecco la grazie grazie grazie